Tutti uniti, nessun voto contrario, qualche autocritica tecnica e non politica come un pugile suonato uscito dal ring il partito democratico toscano sta provando a venire fuori da un periodo davvero complicato mettersi al lavoro a testa bassa sul nuovo piano rifiuti urbani e rilanciare anche la filiera di quelli industriali si è chiusa così la direzione regionale del partito convocata dalla segretaria Simona Bonafè a 60 giorni di distanza dalla deflagrazione dell'inchiesta sui rifiuti del distretto conciario che da una parte ha scoperchiato un possibile legame tra i consorsi di riciclo del distretto ed un'azienda in odore d'andrangheta dall'altro ha mostrato un rapporto anomalo tra le aziende e il PD con alcuni consiglieri regionali che portarono un emendamento semplificativo delle procedure ambientali di abrogato all'unanimità in aula bypassando così il parere degli uffici legislativi della regione e portandolo al voto come fosse un copia in colla in ogni caso adesso occorre concentrarsi sul nuovo piano rifiuti che sarà portato in consiglio nei prossimi giorni per un'approvazione in autunno un documento che dica come superare le discariche quali e quanti impianti fare dove, con che tempi e soprattutto con quali tecnologie per stabilirciò come recentemente riportato la regione aprirà anche una colla internazionale rivolta ai colossi dell'ingegneria e dello smaltimento perché studino lo scenario e soprattutto perché propongano soluzioni adeguate alla Toscana ci vuole un partito coraggioso dunque che affronti di petto il tema della trasparenza della legalità e del rapporto col tessuto imprenditoriale che lo faccia ad alta voce da qui la proposta della segretaria Bonafè di aumentare la presenza di soggetti pubblici all'interno del distretto del cuoio e rafforzare l'agenzia regionale per la protezione ambientale l'ARPAT assieme alle sue autonomie